La Cavese, che ha perso mercoledì scorso a Catania, avrà subito domenica l'opportunità per rifarsi e provare a vincere nuovamente in casa, a Castellammare di Stabbia, contro l'Avellino, nella settima giornata della Serie C. La gara persa al Cibali ha mostrato un aspetto, che in questo momento la formazione di Campilongo non può fare a meno di quelle che sono le proprie certezze abituali, che sono quelle di giocare in un certo modo con i quattro difensori, con tre centrocampisti e tre attaccanti. Per proporsi con un modulo diverso, la Cavese avrebbe bisogno di tante prove e il 3-5-2 con cui la squadra aveva iniziato la gara in Sicilia non ha dato, in tale particolare contesto, quella sicurezza che sarebbe stata necessaria. I bianco-blu dovranno cercare di tornare a essere gli stessi visti all'opera contro la Paganese. Solo così avranno le maggiori probabilità di fare risultato. E la partita con l'Avellino, che a inizio stagione sembrava la più facile, adesso, alla luce dei risultati ottenuti dai biancoverdi in trasferta, si presenta più insidiosa. La compagine dei due tecnici, Ignoffo e Cinelli, lontano dal Partenio, è sempre riuscita a vincere. Potrebbe rientrare tra i titolari metelliani Sainz-Mazza con l'uscita dal terreno di gioco di Castagna, ancora da recuperare Lulli e Germinale. La Cavese, tra l'altro, potrebbe ufficializzare a breve l'ingaggio di un nuovo centrocampista, la cui identità al momento è top 7. Il giudice sportivo, intanto, ha inflitto una multa di 1.000 euro alla Cavese per una motivazione davvero inedita, perché propri sostenitori, in campo avverso, intonavano un coro inneggiante alla liberazione di Antonio Speziale, che è il tifoso catanese ritenuto responsabile dell'omicidio preterintenzionale dell'ispettore Filippo Racetti. Anche il Catani ha ricevuto una multa per la medesima motivazione, ma per gli etnei sono 2.000 euro perché c'è la recidiva. Comunque la società della Cavese può vantare dal canto suo una soddisfazione per questa settimana. Mercoledì pomeriggio, poche ore prima che la prima squadra perdesse a Catania, infatti, l'Under 17 ha vinto il trofeo di calcio intitolato al compianto vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I piccoli aquilotti hanno battuto 1-0 i pari età della Vilibus Unitis sul campo di Somma Vesuviana in provincia di Napoli, alla presenza del presidente della Lega Pro Ghirelli. Il torneo era un quadrangolare e comprendeva anche Avellino e Casertana.